Io vado a dare il benvenuto e ben tornato al professore Alessandro Orzini, fondatore del sito Sicurezza Internazionale. Buonasera professore, si accomodi pure lì ma guardi che già qui ho dovuto a visto pronteggiare quanti duelli stasera Maurizio Lupi, Presidente dei non moderati, parlamentare dei non moderati. No, no, dico perché voglio, cerchiamo di fare un dibattito tranquillo. Eh, perché ha visto già Corona si è nervosito, quindi adesso cerchiamo di moderarci. Ma con lei come facciamo a non moderarci? Un noi moderato non può essere che moderato, no? Allora, io volevo cominciare questa volta, perché parleremo naturalmente del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, però volevo cominciare più dalle questioni che riguardano noi, perché come è possibile che, cioè cosa è successo? Ce lo spiega un po', come mai questo decreto, questa decisione di refinanziare l'invio di armi che per tutto il 2023 era stata inserita in un emendamento a un decreto sulla sanità calabrese e sulle missioni della Nato e poi oggi pomeriggio invece precipitosamente è stata tolta e sarà presentata giovedì in Consiglio dei Ministri. Cioè, che volevate fare? Evitare un dibattito parlamentare? No, non si voleva evitare. Parla, provare di nascosto? Perché non si capisce perché doveva stare nel decreto sulla sanità calabrese. Perché sempre avere cattivi pensieri? Professore, stavolta mi devi dire, a lei è venuto questo cattivo pensiero? No, non può essere venuto un cattivo pensiero, ha solo bravi e buoni pensieri. Mi faccio solo dire, perché ne abbiamo parlato oggi, lei sa che c'è stato un incontro della maggioranza con il Presidente del Consiglio. E quindi è semplicemente un problema procedurale. C'è bisogno di, entro il 31 dicembre 2022, scadono tra virgolette gli impegni presi dal Parlamento. Parlo dei decreti del governo Conte che sono andati avanti, si sono suiciduti e poi reiterati con il governo Draghi. Anche se tutto, per chi ci sta ascoltando, il mandato parlamentare appartiene a quel Parlamento che ha votato l'indicazione chiesta dal governo Conte. Scadono al 31 dicembre del 2022. Entro il 31 dicembre 2022, tra l'altro con questo nuovo governo, ci sembrava importante, e ci sembra importante che il nuovo Parlamento confermi perché c'è un problema di tempi parlamentari. Normalmente la tecnica parlamentare può prevedere che su un decreto in corso che va a conversione e che scade si possa inserire per compatibilità di materia, che non è quella della Calabria, mi perdoni, ma è quella ovviamente che riguarda il tema delle missioni Nato, un elemento. L'opposizione correttamente ha chiesto che si potesse, lo dico perché bisogna essere corretti su questo, ha chiesto che si potesse fare un dibattito, si è impegnata nella riunione dei capigruppo del Senato a dare la possibilità che comunque entro il 31 dicembre un nuovo decreto con l'oggetto di questa proroga dell'aiuti militari all'Ucraina possa essere approvato. Tra l'altro domani in Parlamento, lo dico perché non si vuole minimamente, adesso ci confronteremo, limitare il dibattito, alla Camera dei Deputati ci sono due emozioni, diverse emozioni, che diranno l'indirizzo del nuovo Parlamento al Governo se, come io credo, continuare nell'aiuto, sanzioni e invio delle armi all'Ucraina e diplomazia oppure no. Mi sembra che questo sia il problema e basta con i cattivi pensieri che fanno male. Fanno male, ecco, ma non è che temevate invece qualche defessione della Lega di Forza Italia? No, nonostante quel che pensi, quindi adesso la faccio contenta, Calenda, ma ancora di più Renzi, che si auspica sempre che quello stai sereno possa creare un problema all'interno della maggioranza, la maggioranza, come giusto che sia, No, ma come giusto che sia, siamo appena stati votati, ci manca solo che adesso andiamo in crisi. Nessuna maggioranza non dire che è solida e compatta. No, solida e compatta, guardi, se ne farà una ragione, ma dopo dieci anni, lo dico che ci ascolta, c'è una maggioranza politica e c'è un'opposizione. La maggioranza politica ha la responsabilità di governare, assumendosi la responsabilità di fare le cose e chi sta all'opposizione fa bene l'opposizione. E' importante che adesso vi faccio vedere anche questo sondaggio, come inviare per un altro anno armi all'Ucraina. Non è bene auspicare un dibattito in Parlamento a cui tutti possiamo assistere, dove tutti possono dire la loro, visto che nel passato non c'è stato, perché nel passato... Che nel passato non c'è stato non è vero, però credo che questo nuovo... No, non c'è stato il dibattito pubblico su questo. Sì, però questo Parlamento che si è appena insediato credo sia doveroso, tant'è che domani lei si vedrà, c'è un'intera giornata in Parlamento e si concluderà con mozioni, cioè con atti di indirizzo, che dirà se andare in quella direzione o non andare in quella direzione. Vediamo un attimo quel sondaggio che abbiamo fatto per chiedere agli italiani se continuano. Ecco, il 31 dicembre scadrà la norma con cui il Parlamento italiano ha deciso l'invio di armi all'Ucraina. Secondo lei dovrebbe essere prorogata? Si dice il 36%, no? Il 42% non risponde il 22%. Beh, è un dato pesantissimo questo. Vuol dire che l'opinione pubblica italiana si è spostata, ha compreso che l'Unione Europea, la Nato e gli Stati Uniti stanno mandando un popolo al massacro. Gli italiani hanno compreso che noi non vogliamo dialogare. Zelensky è stato chiarissimo su questo, ha fatto un decreto per impedire a se stesso di avere un dialogo con Putin. Stoltenberg nei giorni passati ha rilasciato delle dichiarazioni iperestremiste affermando così testualmente l'Ucraina entrerà nella Nato, anche se so, ha detto Stoltenberg, che questo fa infuriare la Russia. Abbiamo avuto un profluvio di dichiarazioni estremistiche da parte del blocco occidentale. Ora, siccome l'onorevole Lupi è un moderato, per me è un punto di riferimento e quindi io vorrei rivolgergli la seguente domanda. Noi abbiamo davanti a noi due strade. Una strada è quella della diplomazia, che noi disprezziamo con tutte le nostre forze perché l'Occidente è stato chiarissimo, non ci deve essere nessun dialogo diplomatico con la Russia. E poi abbiamo un'altra strada che è l'invio delle armi. Senza sosta, tant'è vero che il governo Meloni progettava di impegnarci a inviare le armi fino al dicembre del 2023, il che implica la decisione già presa di non trattare fino al dicembre del 2023. Quindi vuol dire programmare una guerra almeno fino al dicembre del 2023. La domanda è la seguente. Dunque noi abbiamo davanti a noi due strade. Una è quella del dialogo diplomatico che io sostengo e l'altra è quella dell'invio delle armi. Se uno sceglie la via delle armi è moderato, secondo me è un estremista. Se noi siamo di fronte a due alternative, dialogo diplomatico come sostiene Orsini, invio delle armi come vuole Stoltenberg, Biden per sconfiggere la Russia sul campo, io credo che in questo momento l'onorevole Lupi sia un estremista. No, ma le sembrerà strano, professore. Intanto la ringrazio per la domanda. Ma i moderati non sono quelli che non hanno idee o non si assumono la responsabilità di dire con chiarezza che cosa sta accadendo e quale strada percorrere. E quello che io credo, ne abbiamo discusso tante volte, è che i due elementi con forza e con chiarezza a sostenere l'Ucraina, con le sanzioni e con l'invio delle armi, perché non ci si difende dall'invasore a mani nude, e la via della diplomazia che non può essere mai messa da parte, vanno di pari passo. D'altra parte, quel sondaggio è vero, ma più del sondaggio, due mesi fa ci sono state le elezioni. Il programma del centro-estero era molto chiaro. Uno dei punti era, senza se e senza ma, il primo punto, sostegno all'Ucraina, invio delle armi, diplomazia e siamo dell'Occidente. Mi permetta, da moderato, visto che voi tirate sempre per la giacca o per la tonaca, e a me non piace, e la direttrice Berlinguer da laica sa quanto dovrebbe essere d'accordo con me, tutte le volte che il Papa dice una cosa a favore della pace, tra virgolette, che vogliamo tutti, e contro la guerra, viva il Papa. Non ho sentito voci da parte degli intellettuali quando il Papa è stato attaccato dalla Russia in maniera volgare due giorni fa perché ha detto con chiarezza che l'invasore vergognoso e terrorista è la Russia che ha invaso un popolo e che sta distruggendo. Perché lei mi dica come chiama il fatto che si tolga l'acqua, la luce che sono beni essenziali ad una popolazione. Cosa fa l'Ucraina? Si difenda a mani nude? Forse l'unica strada è, con chiarezza, stare dalla parte dell'Occidente e dell'Ucraina e poi dire alla Russia dialoghiamo e non dissotterriamo le armi della diplomazia. Essere moderati? Assolutamente sì. La ragione per cui l'Ucraina si trova in questa situazione disastrosa, la ragione per cui il Paese è devastato è perché noi non abbiamo voluto trattare, prima del conflitto, perché Putin iscrisse una lettera al 17 dicembre del 2021, ai vertici della Nato e ai vertici degli Stati Uniti e non abbiamo mai voluto avere un dialogo diplomatico con la Russia. Tanto è vero che esiste ampia documentazione scritta che dimostra che l'Occidente è iperradicalizzato, disprezza la diplomazia e tutte le dichiarazioni che sono state rilasciate in questa settimana, negli ultimi sette giorni, da Zelensky e da Stoltenberg e da Biden sono dichiarazioni iperradicali le quali affermano che l'unica strategia che noi possiamo portare avanti con la Russia è dialogo zero, diplomazia zero, soltanto invio di armi. La ragione, mi scusi onorevole, per cui l'Ucraina è sprofondata in questo inferno è perché vi siete tutti radicalizzati e il paradosso è certo. No, ma guardi, si mancherebbe altro, però lei dovrebbe avere, scusi, se la interrompo, mi perdoni solo un'osservazione. Lei è uno studioso ed un professore e sa che come me più dei ragionamenti valgono le osservazioni. Osservare la realtà è la cosa più importante per lei e per me, si chiama realismo. Allora, quello che è accaduto è sotto gli occhi di tutti. La Russia non è che l'Occidente non ha voluto di allegare. Chi doveva fare una tregua, cioè di smettere le armi, si chiama Russia, perché la Russia ha invaso. Secondo passaggio. Cosa ha fatto la Russia? Putin ha invaso, ha occupato il Donbass, ha tentato ovviamente di allargarsi e poi ha detto adesso discutiamo e facciamo la tregua. Ma se tu sei invaso, le condizioni di una tregua, chi li detta? l'invasore o chi dice ragazzi, ma mi hai invaso. Ma c'è un principio che dovrebbe appartenere alla sua e alla mia cultura. Lei non può continuare a mettersi le mani davanti agli occhi e non riconoscere che Putin è una roba... Onorevole, mi scusi, la ragione per cui noi ci troviamo in questo inferno è perché l'Occidente è per colpa dell'Occidente e dell'Ucraina. È perché l'Occidente ha il terrore di sedersi intorno al tavolo delle trattative. Dovrebbe avere il terrore, mi scusi. L'Occidente ha il terrore di sedersi intorno al tavolo delle trattative perché sa che le sue carte verrebbero scoperte in quanto Putin chiede che la Nato la smetta di premere ai confini con la Russia e l'Occidente ha il terrore che il pubblico italiano capisca quale sia il cuore del problema perché la Nato preferisce vedere morire centinaia di bambini piuttosto che fermare Ma non è vero ma mi scusi ma chi è l'invasore? Onorevole fai andare da Ivar o Mosca professore chi è l'invasore? L'invasore è la Russia Perfetto chi è il terrorista? Quando uno prende e bombarda Onorevole Altalene Asilinido toglie l'acqua e la luce ad una popolazione come lo definisce lei da studioso ma innanzitutto da persona come me e difende la persona Onorevole Aspetti Le spiego quello che sta succedendo in Ucraina In Ucraina c'è stata una guerra tra la Russia e l'Ucraina che è finita intorno al mese di marzo e l'Ucraina è stata completamente sconfitta si è trovata senza armi senza soldi in bancarotta senza addestramento e senza internet e poi è iniziata un'altra guerra la guerra tra la Russia e la Nato Ma a questo momento Mi sembra molto parziale nella sua ricostruzione però mi scusi l'Ucraina è un paese devastato distrutto che non ha risorse per campare nemmeno per 24 ore è un paese che viene tenuto in vita con un polmone artificiale rappresentato da tutti gli aiuti forniti all'Ucraina dalla Nato Onorevole 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 Il popolo è già distrutto quindi lo ammazziamo mi scusi mi faccia chiarire il punto però vorrei chiarire il punto perché così capiamo esattamente quello che è successo quello che sta succedendo in Ucraina è esattamente quello che è successo in Siria cioè la Nato volendo combattere contro la Russia ha preso un popolo e lo ha mandato al massacro perché anche da un punto di vista etico tu non prendi un paese debolissimo è fragilissimo è fragilissimo adesso bisogna dire a l'Ucraina arrendete morite io vorrei richiamare l'attenzione sull'atteggiamento disumano del blocco occidentale guidato da Biden io vorrei finire questo concetto che ha preso infatti non è un risico che ha preso la vita della gente le famiglie però poi la dottoressa le dice professore lei alza la voce non mi erosisce che cosa devo fare bisogna chiedere all'Ucraina di lasciare tutte le volte che io sto spiegando che il blocco occidentale sta conducendo politiche criminali in Ucraina che sta sfruttando un popolo che sta mandando un popolo al massacro che non vuole diplomazia e lei mi interrompe con le domande e non si riesco è il mio dovere fare domande io la ringrazio di questo però se lei mi interrompe sui punti cruciali del mio discorso io voglio capire il mio messaggio arriva a depotenziare professore il suo discorso io vorrei chiarire che il blocco occidentale von der Leyen Biden Stolten sta mandando gli ucraini al massacro sono dei promotori di politiche disumane e criminali nei confronti dell'Ucraina allora cosa bisognerebbe fare siccome Putin dice noi non ce ne andiamo non abbandoniamo questi territori io voglio capire solo questo bisognerebbe lasciare quei territori alla Russia io le rispondo ma voglio spiegare che la risposta che io sto dando e rinunciarci definitivamente ecco solo questo voglio capire io le risponderò voglio chiarire che la risposta che sto per dare è a beneficio di chi ci ascolta perché voglio spiegare alle persone come in Italia noi manipoliamo l'opinione pubblica insomma adesso non esageriamo lo spiego no 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 c'è una pesantissima manipolazione dell'opinione pubblica assolutamente sì perché noi facciamo per nascondere il fatto che noi non vogliamo una soluzione diplomatica facciamo delle richieste irrealistiche in sociologia si distinguono i conflitti realistici dai conflitti irrealistici quali sono le richieste se noi chiediamo qual è il giochino sporco che noi facciamo noi diciamo alla Russia noi siamo disposti a trattare con te ma tu devi accettare la resa incondizionata cioè devi ritirarti completamente da tutti i territori la Russia sa cosa risponde dice scusate ma se anche io facessi una cosa del genere chi mi garantisce che una volta che poi sono uscito dall'Ucraina voi non riprendete voi il governo di Kiev a massacrare migliaia di civili russi nel Donbass è una richiesta talmente imbecille talmente rettile allora sentiamo Inaro che no mi scusi mi scusi allora no e no lo voglio dire c'è Inaro che ti aspetta la 10 minuti ma io sono agitato perché mi interrompete di continuo io non l'ho mente rotta onorevole mi permetta solo di dire due cose io voglio dire no mi aspetta poi le lascio la parola io vorrei non mi aspetta io mi assumo la responsabilità io vorrei affermare un principio è mio io affermo che qualunque politico dica che per avere un dialogo diplomatico con la Russia la Russia deve ritirarsi da tutti i territori è un imbecille va bene ok è un idiota è un imbecille io credo date Martina ecco ma perché è un imbecille per me i politici se Stottenberg fa una richiesta no benissimo l'abbiamo detto credo che a quest'ora voglia cercare di comprendere anche idee diverse però lei ha detto due affermazioni anche da rappresentanza delle istituzioni mi sembra un po' gravi la prima molto più grave che è quella che l'Occidente l'Europa e l'Italia la Nato stiano attuando politiche criminali di morte di morte certo politiche di morte mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti e mi auguro che stiamo massacrando un popolo nei miei figli nei miei nipoti nei suoi figli possano trovarsi nella stessa situazione di un popolo che è costretto a non avere l'acqua e la luce per un invasore guidati da questi criminali scusi ma non è che il criminale io posso non condividere un regime o un altro ma non è che il criminale è chi subisce e non i chi invece oh ma chi fa politiche criminali che sta ammazzando la popolazione civile ma se lei avesse la sua famiglia a Milano o a Roma bombardata come descriverebbe quelli che la stanno bombardando ma lei lo sa che non c'ha la luce io chiederei una soluzione diplomatica certo ma per colpa della vostra parte politica che siete degli estremisti ma come della vostra parte politica è Putin non c'entra niente siete degli estremisti volete dare sott'anni non volete fare nulla per la pace è per questo che sono in questa situazione è per questo che sono in questa situazione perché nessuno è imbecille va beh io ho detto certo io ho detto che chi propone che chiede va beh che la Russia l'abbiamo detto l'abbiamo allora Mark mi date Mark Inaro per favore mi date Mark Inaro perché deve poi dire imbecille alle persone perché voglio che il messaggio voglio dire ognuno avrà la sua linea politica avrà la sua proposta avrà la sua strategia ma non è che devono diventare imbecilli dottoressa le do una risposta anche a questo perché se io vengo continuamente interrotto allora gli altri sono imbecilli ma posso rispondere no le spiego perché come si arriva all'imbecille glielo spiego c'è una genesi c'è una genesi perché si esagera perché se i miei messaggi vengono continuamente depotenziati perché vengo continuamente interrotto io sono costretto ad andare all'escalation verbale ma che vuol dire all'escalation io voglio che i miei messaggi arrivino chiari e tondi mi fate parlare io non ho mai interrotto l'onorevole Lupi voglio chiarire che se gli ucraini sono in questa condizione è in larga parte perché l'Occidente non vuole mediare e non vuole trattare quindi non c'è responsabilità della Russia vedete voi non mi interrompete e io non utilizzo espressioni forti io ho condannato la Russia miliardi di volte ma la Russia vuole trattare c'è un'ampia documentazione scritta che lo dimostra allora sentiamo Mark Hinner è l'Occidente che non vuole trattare Mark ha ragione il professor Orsini è l'Occidente che non vuole trattare la Russia invece sarebbe pronta e disponibile e a quali condizioni? allora vorrei Bianca anzitutto ricordare che per otto anni almeno qui non smettono di ricordarlo che per otto anni dal 2014 fino ad oggi il Donbass cioè le regioni di Lugansk e di Donetsk erano state costantemente sotto il tiro dell'esercito ucraino e delle milizie ultranazionaliste i battaglioni Azov Gaidar Pravi Sector e così via e ci sono stati più di 15.000 morti in questi in questi otto anni questo è il motivo per il quale i russi in qualche modo giustificano il loro intervento non sto qui a dire se hanno fatto bene o male ma questa è la motivazione per la quale sono intervenuti tra l'altro non sono intervenuti per otto anni e lo ha detto Putin proprio due giorni fa non più tardi di due giorni fa quando incontrando quelle madri di soldati di un gruppo di persone tra cui c'erano anche delle funzionarie di partito quindi insomma erano delle madri al 50% alcune di loro avevano perso i figli tre di loro avevano perso il figlio e alla domanda di una di queste madri che avevano perso un figlio in questa guerra sul perché non fossero intervenuti prima Putin ha detto col senno di poi ci siamo ci siamo resi conto che avremmo dovuto farlo prima ma noi speravamo ha detto che si riuscisse con gli accordi di Minsk Minsk 1 Minsk 2 con la mediazione della Merkel dell'allora presidente francese Hollande poi di Macron che si riuscisse in qualche modo a trovare scusa Mark hanno cominciato il 24 febbraio loro non hanno prima nel Donbass poi sono spostati a Kiev però accusano accusano in qualche modo i governi occidentali la Nato di avere preparato in questi ultimi 8 anni e di fatto Stoltenberg lo ha ammesso implicitamente nelle ultime 24 ore che già dal 2014 venivano addestrati nella base di Giavo Riv che tra l'altro è stato uno dei primi obiettivi dei russi all'inizio del conflitto dopo a partire dal 24 di febbraio addestravano delle truppe le truppe ucraine con degli istruttori canadesi americani che cosa hanno fatto ecco ma adesso spiegami adesso perché questo già l'abbiamo detto anche nel passato anzi l'aveva pure arrivato il professore però va ricordato va come dire opportunamente ricordato perché altrimenti si pensa che i russi siano una professore ero rapito da innaro che stava dicendo cose importantissime mi scusi essere rapiti è sempre una cosa perché sentire persone intelligenti è raro non è che intelligente professore solo chi la pensa come lei stava semplicemente formando informazioni che in Italia non passano porti rispetto anche delle opinioni diverse ma io la rispetto le sue opinioni non lo so mi sembra che la realtà sia la realtà mi scusi onorevole ero semplicemente preso assorbito al discorso di innaro e quindi mi sono distratto e mi scuso quando lei ha fatto quella cosa davanti alla commissione esteri che anno era? era il 3 dicembre 2018 la Nato sta io dissi già il 3 dicembre 2018 la Russia aveva ammassato 100.000 soldati al fronte ucraino quindi la situazione per noi è gravissima perché la nostra classe dirigente non ha visto un pericolo imminente perché non è che i soldati la Russia li abbia ammassati tutti quanti a febbraio del 2022 si è confermata poi realtà io voglio chiedere solo una cosa a Mark Hinnero poi sentire voi due perché poi dobbiamo comunque chiudere scusa Mark però questo è il passato oggi secondo te la Russia vuole sedersi al tavolo delle trattative e a quali condizioni? si vorrebbe sedere al momento siamo al muro contro muro lo ha detto Pescova anche di fronte alle offerte del Papa di Papa Francesco di un tavolo di mediazione lui sostanzialmente dice le nostre condizioni sono ben note Zelensky non vuole perché non può trattare sono altri che decidono per lui e sostanzialmente fa riferimento agli inglesi e per conto degli inglesi sostanzialmente gli americani per conto degli americani sostanzialmente gli inglesi sul campo insieme con i polacchi queste sono le loro le accuse che volgono che fanno i russi e a questo punto la posizione russa è chiara territori quelli che occupa attualmente riconquista di Donetsk e di Lugansk per quello che rimane da conquistare sono in corso dei feroci ferocissimi combattimenti negli ultimi giorni stanno morendo a centinaia come mosche soldati russi e soldati ucraini vengono sostanzialmente resi al solo villaggi la strategia russa si muove anche sul fronte di cui abbiamo parlato finora ossia bombardamenti di infrastrutture quindi va bene queste sono le condizioni quindi il problema il problema è chi si arrenderà chi si dovrà arrendere le riserve strategiche di armamenti della Russia sono ve lo ripeto da mesi sono enormi sono sterminate quindi secondo te si arrenderanno gli ucraini dici allora in questo momento la battaglia più feroce e anche la più importante in Italia non se ne parla perché i russi sono in vantaggio ed è a Bakhmut una battaglia importantissima importantissima di cui in Italia non si parla perché è vero che si stanno massacrando ma la Russia è leggermente in vantaggio è caduta a Bakhmut c'è l'ultima linea difensiva dell'Ucraina in Donbass quindi c'è Sloviansk e Kramatorsk io la domanda che vorrei rivolgere all'onorevole Lupi poi dobbiamo chiudere per avere un atteggiamento costruttivo lei le fa la domanda Lupi risponde chiudiamo siccome anche Kersson dopo i triunfalismi in Italia io vi avevo detto siate cauti è stata Kersson la Russia sta massacrando Kersson e tutta la regione di Kersson Kersson oggi Zelensky ha detto che ci sono stati più di 250 attacchi missilisti 250 bombardamenti nella regione in pochi giorni siccome l'onorevole Lupi è un moderato e siccome la guerra in Ucraina sta diventando sempre più estrema la domanda è semplice onorevole Lupi essendo lei un moderato che cosa sta facendo per moderare il conflitto? Allora onorevole Lupi la prima cosa che bisogna fare è affermare la realtà se tu metti un dito nell'occhio a uno e rispondi con una mitagliatrice non è che la proporzione ci sta e bisogna dire con chiarezza quello che ha detto il Papa due giorni fa e lo leggo quello ucraino è un popolo martirizzato ma non perché si martirizza ma perché qualcuno li martirizza e le peggiori crudeltà sono compiute dai ceceni e dai buriati e che cosa sta facendo per fermare questa guerra? La santa sede dice il Papa è sempre disponibile ad una mediazione quello che noi affermiamo non come moderati ma qui non è uno scontro professore tra tifoserie io ho ragione e lei ha ragione ma lei è un deputato delle responsabilità davanti agli italiani siamo di fronte di un dramma incredibile quello che noi diafforrevole mi scusi però lei mi ascolti stasera non lo so si è agitato io non so che cosa le è successo io la richiamo una cosa mi scusi lei non è un giornalista lei è un deputato professore lei ci deve dare qual è la posizione la sintesi di quello che succede in Ucraina ce la fa la Berlinguer lo sappiamo che c'è un massacro professore rispondi ma io non lo so stasera cosa le succede la prossima volta faccio monologo allora basta dai lei riceve uno stipendio per fare il parlamentare io non ricevo uno stipendio allora per favore a differenza sua io sono stato eletto del popolo e sono il rappresentante del popolo e lei mi porta di vita è chiaro è chiaro io le dico cosa sto facendo e lei rispetta rispetta me professore Orsini io da lei non accetto l'efficienza allora 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 sta zitto e mi fa parlare io faccio il parlamentare professore Orsini lei si dimette da professore fa rispondere l'onorevole Lupi la smette lei che sta facendo allora l'onorevole Lupi le chiedo scusa per favore mi risponda rapidamente volevo solo dirle nonostante le intemperanze di un professore che non è più un professore sono sue dai basta basta non scendete in insulti per cortesia io credo che la strada che abbiamo intrapreso come Italia come Europa e Occidente sia la strada da compiere con chiarezza sanzioni contro l'invasore evitare e lo stiamo proseguendo evitare che il popolo ucraino si difenda a mani nuvi quindi aiutare quindi continuare a inviare anni e terzo la strada della diplomazia che nonostante lei si vede che non ha studiato molto nella storia basta basta per cortesia non avviene se tu dici guarda grazie al professor Orsini ma se il tuo armi non avviene la strada della diplomazia basta per favore lei è agitato scusate io vi devo chiedere interrompere grazie al professor Orsini grazie all'onorevole Maurizio infatti gli italiani sono contro l'invio delle armi allora per cortesia onorevole Lupi non vi seguono gli italiani non seguono le armi professore Orsini è finito il dibattito non seguono le armi allora per cortesia mi potete mandare allora adesso sono costretta a interrompervi a mandare il servizio allora scusate onorevole Lupi basta basta se lei gli replica ogni minuto non finiamo basta però inutile tanto andare avanti se voi a dicembre allora scusatemi dovete accettare che nel paese la temperatura per favore mi mandate il servizio successivo allora scusatemi